Sono con il sindaco di Real Mondo e quindi il sindaco della Scala dei Turchi. La Scala dei Turchi è ancora chiusa, c'è stato un movimento di protesta, domenica prossima ci sarà un zittini per pulire le spiagge. Qual è lo stato dell'arte oggi, sindaco? Allora, lo stato dell'arte. Noi per contratto dovremmo iniziare la pulizia delle spiagge dal 15 giugno, e quindi dal 15 giugno al 15 settembre. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo e anticipato l'inizio delle pulizie delle spiagge a partire da tutte le spiagge che abbiamo. Io ricordo che noi abbiamo spiagge a partire da Punta Grande, Scala dei Turchi, Caporossello, Pergole, Geloardo, fino a parte di Pietre Cadute, quindi tutte le spiagge che abbiamo. La spiaggetta è dimenticata. Abbiamo iniziato a pulirle già dalla fine di maggio e allo stato attuale sono quasi tutte pulite e sistemate. Anziché partire a regime con 7-8 operatori in aggiunta a quelli che ci sono in inverno, lo abbiamo fatto per motivi economici, ovviamente, con tre operatori. Ora, sarebbe bello tenere pulite le spiagge tutto l'anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma ciò comporterebbe un aggravio economico in carico dei cittadini del Comune di Realmente, non indifferente. Siccome il Sindaco deve lavorare con la filosofia del buon padre di famiglia, deve poter discendere le cose che si possono fare, quelle che non si possono fare, e qual è l'impegno. Tuttavia, noi abbiamo ritenuto di destagionalizzare e quindi allungare la stagione estiva a partire, dicevo, dalla fine di maggio e contiamo di tenere quindi le spiagge pulite non più fino al 15 settembre, ma fino a arrivare al mese di ottobre. Non so se a fine ottobre, a metà ottobre, questo lo dirà un poco anche il tempo. Quindi lo sforzo l'abbiamo fatto massimo. Poi, io di recente ho fatto delle passeggiate alla Scuola del Turchio, io credo che lo Stato dell'arte, cioè il decoro, ci sia tutto. Certo, ci può essere qualche rifiuto lasciato da qualche cittadino poco abituato all'educazione, diciamo, ma cose di secondo piano. Giorno 17, come diceva lei, un'associazione ha promosso la pulizia di quel litorale in aggiunta a quello che già stiamo facendo. Io, il Vice Sindaco e parte dell'amministrazione saremo presenti là con tutti loro perché lo facciamo sempre, noi siamo pronti a collaborare con tutte le associazioni, specialmente quelli che si spendono per il territorio. L'abbiamo fatto l'anno scorso, per esempio, con Claudia Casa, con le scuole e con le Gambiente. Lo faremo quest'anno anche con questa associazione.